Due ex, due nuovi compagni, due influenza. Ma che storia è? Dove ci ha sistemati? La suite 223. Li abbiamo preparato la suite 222. Le camere sono comunicanti, vero? Vedrai che bel weekend che ti aspetta. Didi? Sì? Non ti far vedere più. Che mi hai fatto? Sto venendo in fuoco! Chiama qualcuno! Un mostro! Stai bene in costume? Ma sì? E non sai senza? Sì o no? Non mi chiedere niente. Forse! La cosa migliore da fare per noi qui è ignorarci. Ignoriamoci. Dimmi ne uno. Mi, 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 minchia. E non mi ha fatto per no бо mix in panricone! Che! Mamel, ca? Si! OTO! Grazie per la visione!